Namaste, ciao! In questo video vorrei parlarvi del concetto di non attaccamento. Magari ne avete sentito parlare. Spesso si fraintende il concetto di non attaccamento con l'idea di essere totalmente privi di emozioni, non provare emozioni o non possedere nulla. Quindi l'idea di un monaco ascetico che è lontano dalla società, che non possiede nulla, che non prova nessun tipo di emozioni. Non è esattamente così. Perché è importante nello yoga il concetto di non attaccamento? Il concetto di non attaccamento viene definito in sanscritto raga ed è uno degli ostacoli che ci precludono la visione, la comprensione della realtà così com'è. È un velo che ci viene posto davanti, diciamo, agli occhi e non ci fa vedere il mondo in una determinata maniera, come se fosse un vetrino colorato davanti agli occhi. Quindi va compreso e evitato. Ci sono vari aspetti del non attaccamento. Non attaccamento, la prima cosa che ci può venire in mente è appunto con gli oggetti, con le cose materiali. Non essere attaccati alle cose materiali non vuol dire non avere nulla, non vuol dire appunto vivere in una grotta sull'Himalaya. vuol dire non caricare di un eccessivo valore gli oggetti. Una cosa che succede, tra l'altro un motore che muove molto l'economia della nostra società è proprio questo, il valore aggiunto, il famoso valore aggiunto agli oggetti, il fatto di dare all'idea di possedere un oggetto tutta una sfera, il famoso status symbol, quindi se possiedo questo oggetto significa che sono particolarmente sofisticato, sono elegante, ricco, famoso, di successo, ma soprattutto quello che facciamo spesso è caricare gli oggetti del compito di darci la felicità. Quindi solo se mi comprerò la nuova borsa di che ne so quale marchio, allora sì, sarò felice. Solo se ho il cellulare di nuovo modello, allora sì, solo sarò felice. In verità una volta che poi facciamo questi acquisti ci rendiamo conto che a parte magari l'euforia momentanea dell'acquisto, la felicità non è pervenuta. Quindi dobbiamo, invece di rincorrere l'oggetto seguente, quindi ho preso questa borsa, ok, adesso per qualsiasi istante sono felice, adesso mi servono pure le scarpe, mi serve il portafoglio, e poi ci sarà la nuova stagione. Quindi interrompere questa rincorsa e invece capire che sì, posso comprarmi una borsa, posso comprarmi un cellulare, una macchina, qualsiasi cosa, ma non sono queste cose che mi danno la felicità, ok? Quindi se anche queste cose non ci sono, posso essere felice lo stesso, ok? Quindi se non mi posso permettere di spendere tanti soldi per un telefono, una borsa, un qualsiasi oggetto, posso comunque essere felice. E quindi non essere attaccati a questi oggetti. L'onattaccamento però è anche nei confronti delle persone. Noi non possediamo le altre persone, che siano il nostro partner, che siano i nostri figli, che sia un rapporto di amicizia, che siano i nostri studenti, ad esempio, se siamo insegnanti. Noi non possediamo le altre persone, ok? Possiamo essere felici nello stare con le altre persone. Le altre persone non sono incaricate di renderci felici e soprattutto sono libere di avere una loro vita, fare delle loro scelte indipendenti da noi. Quindi non attaccarci al concetto di possedere, poter guidare o poter diciamo creare la vita degli altri. Il non attaccamento anche rispetto alle emozioni, quindi la famosa idea di essere privi di emozioni in modo tale da non avere degli alti ma non avere neanche dei bassi, quindi evitare la sofferenza. Non attaccamento non vuol dire non provare emozioni. Perché non dovremmo provare emozioni? è la cosa che nel bene e nel male, sia le emozioni belle che le emozioni brutte sono il nostro fare esperienza di questa vita, quindi perché dovremmo privarcene. Dobbiamo però capire che le emozioni sono degli istanti, quindi non attaccarci a questo istante e pretendere che questo istante continui per sempre, il famoso amore per sempre, no? O che si ripeta esattamente dandoci la stessa sensazione. Non è possibile e soprattutto è uno spreco di tempo, ok? L'emozione è un istante, nel nostro corpo l'emozione è una scarica ormonale che ci fa sentire determinate sensazioni, ma è veramente brevissimo. Tutto il resto è poi quello che è il film che ci creiamo nella nostra testa. Quindi se rimaniamo attaccati a una determinata emozione, può essere un'emozione bella, ma spesso purtroppo ci attacchiamo a delle emozioni brutte e continuiamo a ripetere la stessa situazione. Ci sentiamo in una situazione diciamo misera di tristezza e continuiamo a ripetere, rimanere attaccati a questa emozione appunto mettendoci una barriera, un velo davanti agli occhi che non ci permette di vedere quando arrivano delle opportunità invece magari per essere felici o per provare emozioni un po' più positive, un po' più allegre. Quindi quello che ci dice il non attaccamento è che nella vita niente è fisso, tutto cambia, tutto scorre, come si diceva. Quindi è innaturale, è contro il flusso naturale della natura rimanere dei paletti fissi, cercare di fermare l'istante in una fotografia, in un momento, cercare di no, voglio mantenere in questo momento sono felice, voglio mantenere esattamente tutto così, se voglio continuare a essere felice devo continuare a cambiare constantemente con tutto quello che mi circonda. È un lavoro, non è facile, ma è quello che ci può far comprendere la via per liberare la nostra felicità e gioire sempre di questo stato che in verità è il nostro stato naturale, è quello che è dentro di noi, è per quello che non lo troviamo nelle cose, è per quello che non lo possiamo trovare nelle altre persone o negli istanti di vita, è sempre dentro di noi, magari lo lasciamo, ci permettiamo di vivere questa gioia solo quando siamo in compagnia di una determinata persona o quando facciamo una determinata cosa, ma possiamo farlo sempre, è una nostra decisione. Bene, spero che questo piccolo video, questa piccola riflessione possa essere interessante, se volete continuare con questa discussione vi invito a lasciare dei messaggi qui sotto al video e noi ci vediamo alla prossima. Namaste.